faccia la strada via in posizione allerta, guai in vista a controllare portati dietro qualcuno tu vieni con me ricarico l'acqua battuto occupati di lui ricevuto ha bisogno di attenzione immediata in piedi a Cristo che mi... in piedi il l'ho steso controlla vado vado prenditi cura mirate al loro capo ricarico 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 ricarico